...maggio intensissimo di eventi, domani in rivolgo all'estampo ci troveremo di nuovo per presentare la seconda iniziativa che sarà protagonista del mese di managgio, ma intanto torna il nostro festival del libro, torna a Berlucca, torna e animerà la vita culturale della nostra città dal 12 al 19 di maggio, torna con un programma intensissimo che vi riassumo tra poco, non prima però di aver reso merito e ringraziato il tavolo letteratura a 6 appuntamenti complessivamente, suddivisi in 31 presentazioni e incontri con gli autori per adulti, 5 incontri con gli autori per bambini collaboratorio, 2 conferenze, 4 eventi collaboratori c'è Biabucoltre, da quest'anno un'altra novità è Biabucoltre, il giallo, ci sarà un appuntamento il 20 maggio, quindi il giorno successivo la chiusura ufficiale del festival, con una giornata noir di ricambi distinti, uno sarà il disegno green, si disegnerà utilizzando del materiale riciclato dalla carta ai pastelli, al legno, ai sassi e questo laboratorio sarà gestito dalla professoressa Santo Marco delle scuole dei Amici e ci sarà invece un altro laboratorio gestito in collaborazione con Canva, ci sarà qui il signor Canva che è Valentino Magliano che porterà dei computer per far disegnare i bambini su cui portare quest'angelo che praticamente è fatto soltanto con tre fogli di carta, dei libri in disuso, molto vecchi e l'ho legato al tema degli impollinatori che sappiamo stanno subendo una grave decrescita e quindi Grazie a tutti